Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita. C'è un verso in Luca capitolo 7, verso 13, che dice Il Signore vedutala ebbe pietà di lei e le disse non piangere. Bellissimo questo. Nel Vangelo riporta altri episodi di persone risuscitate, ma secondo è scritto in Giovanni capitolo 21, verso 25, è un fenomeno grande. Ora vi sono ancora molte cose che Gesù ha fatte. Se si scrivessero a una a una, penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Pensa per un attimo oggi, se in solo tre anni di ministero Gesù aveva delle testimonianze così, che il mondo stesso non bastava per mettere una libreria per dire ciò che Gesù aveva fatto. Oggi non basta l'universo tra quello che il Signore ha fatto negli atti degli Apostoli, dovunque l'Evangelo è arrivato, nei secoli, nella tua vita, nella mia vita. Quanti universi ci vorrebbero? Gesù è grande. Gesù è meraviglioso. Ciò vuol dire che questi pochi miracoli scritti nel Vangelo sono solo come dire questa è la verità. queste cose sono state scritte perché voi crediate che Gesù è il Cristo, l'unto di Dio, il Figlio di Dio, il Dio venuto in altra forma, l'Emmanuele in mezzo a noi e dentro di noi, secondo le Sacre Scritture. Sono state altre persone che non sono menzionate nel Vangelo, altre risurrezioni. Questa donna aveva già subito la prima sventura. Qui parliamo della vedova di Nain. Era già vedova e aveva un solo figlio. Era morto e una folla l'accompagnava per portarla al cimitero. Lei non aveva più parole per esprimere il suo dolore e si manifestava in un solo modo. Piangeva. C'era una folla intorno a lei. Potevano dire parole. Potevano compatire il suo dolore. Ma nessuno poteva fare qualcosa. Solo Gesù, entrando in quella città, si imbatté in questa storia meravigliosa. Meravigliosa perché è subentrato Gesù, se no non era meravigliosa, soprattutto per questa vedova. Tanti non sono menzionati nel Vangelo, ma ci sono state altre risurrezioni da quello che la tradizione è il ricordo di quello che Gesù ha operato. Questa donna aveva già subito la prima sventura con la morte del marito e pensando al suo futuro aveva curato e cresciuto con amore e sacrificio il suo unico figlio. Chissà quanti progetti aveva fatto su questo figlio. mio marito è morto. Per la mia quotidiana età mi do da fare. Non era ancora di un'età molto anziana. Contava soprattutto sul fatto che ora mi sacrifico tutti i giorni per accudire mio figlio, che poi, quando sarò più anziana, che non posso più fare nulla e se mi coglie qualche malattia, questa è la risorsa che io ho. Il primo dispiacere lo aveva superato in qualche modo e aveva puntato tutta la sua attenzione su quell'unica speranza di quel figlio. ma qui la troviamo che lo sta accompagnando al cimitero. Chissà che cosa c'era in quel cuore. Lei non trovava più le parole, forse non aveva neppure la forza di poter dire quel che il suo cuore viveva. Nessuno poteva mettere sulla bilancia il carico di dispiacere che c'era in quel cuore. Solo che noi sappiamo che superava la misura normale. Il nostro organismo è fatto così. Noi siamo molto educati in tante cose, ma quando alcuni pesi superano la misura che noi possiamo sopportare, noi non ragioniamo più. Ci sono di quelli che si mettono a gridare come perdere l'educazione e ci sono di quelli che si chiudono in sé e si mettono a piangere. Questa il suo dolore lo esprimeva nel pianto. Nelle opere che Gesù compiva c'erano un po' di tutti i colori. Un uomo che aveva un figlio posseduto troviamo più avanti che si esprimeva diversamente. C'era una folla che non finiva mai. Lui per farsi sentire diceva, gridava, dice la parola del Signore, è l'unico figlio che tengo e è indemoniato. Signore, aiutaci. Lo aveva curato con amore e sacrificio, il suo figlio unico, dice nel verso 12. Luca 7,12. Dice così, quando fu vicino alla porta della città e così portava la sepoltura un morto, qui Luca descrive con precisione dicendo figlio unico di sua madre che era vedova e molta gente della città era con lei. Luca sottolinea questa parte singola, unica. nel capitolo 8, verso 42 c'è un altro caso che dice perché aveva una figlia unica di 12 anni che stava per morire. O mentre Gesù vi andava, la folla faceva ressa intorno a lui. Anche qui era una figlia unica. e Gesù soffocava in mezzo alla folla per andare come leggiamo in Luca 9,38 un altro caso. Un uomo dalla folla gridò maestro ti prego volgi lo sguardo a mio figlio è l'unico che io abbia. Gridava dicendo è l'unico che io abbia. Quando fu vicino alla porta della città ecco che si portava alla sepoltura un morto figlio unico di sua madre che era vedova e molta gente della città era con lui ma nessuno poteva fare niente si imbatizzava con lei si accumulavano al suo dolore ebbè mio marito così avevo quest'unico che speravo per il mio futuro quando non avrò più forza in caso di malattia o lui il mio unico lei piangeva e basta e basta Iairo aveva anche lui una figlia unica nel capitolo 8 verso 41 dice ecco venire un uomo di nome Iairo era capo della sinagoga e gettandosi ai piedi di Gesù lui lo pregava di entrare in casa sua lo pregava lui era uno della casta degli ebrei era tra i nobili aveva il problema del figlio però finanziariamente stava bene aveva una posizione sociale però il problema c'era lo stesso nel verso 9 nel capitolo 9 verso 37 dice il giorno seguente quando essi scesero dal monte dal monte una gran folla andò incontro andò incontro a Gesù un uomo dalla folla gridò maestro ti prego volgi lo sguardo al mio figlio è l'unico che io abbia queste piccole cose sono molto importanti lo spirito santo ha guidato lo scrittore sacro per dire che queste persone avevano un solo punto di riferimento e proprio quello gli era venuto meno dove loro avevano investito tutto il loro amore la loro passione e non avevano più altra possibilità questo in mezzo alla folla era forte da poter gridare perciò nel verso 38 leggiamo gridava era l'unico figlio ma era forte in sé per la sua sopravvivenza futura ma grazie a Dio Gesù rispose al loro bisogno ma lei non aveva la forza neppure per parlare lei una sola cosa riusciva a fare piangeva non c'era nessuno che poteva fare niente non c'erano parole c'era una folla qualcuno poteva condividere si avvicinava un bacio una stretta di mano una pacca sulla spalla però il figlio era morto signore aiutaci in Geremia capitolo 31 verso 16 c'è una parola autorevole da parte di Dio e Gesù è l'impronta del Dio vivente in mezzo a noi in questa in questa fase così parla il Signore trattieni la tua voce dal piangere i tuoi occhi dal versare lacrime poiché l'opera tua sarà ricompensata dice il Signore essi ritorneranno dal paese nemico gloria sia resa a Dio ti benediciamo Signore Gesù è l'impronta dell'essenza di Dio presente a questo funerale in quella città Gesù prende questa parola con autorità divina perché egli è Dio e il Signore dice non piangere perché il nemico la morte non vincerà abbiamo dito gli ultimi due versi se lo rileggiamo dice essi ritorneranno dal paese nemico nel paese nemico degli esseri umani è la morte ma con Cristo neppure la morte e il nemico abbattuto perché Cristo operava già prima di aver compiuto l'opera sulla croce e gli aveva un messaggio vivificante alimentato dallo Spirito Santo aveva vita in sé e nel suo messaggio c'era il potere poter dire a questa donna trattieri la tua voce dal piangere i tuoi occhi dal versare lacrime perché l'opera tua sarà compensata il dolore che tu provi per la morte io sono la risurrezione gloria sia resa a Dio trattieni la tua voce dal piangere il nemico la morte è stata sconfitta Gesù è la risurrezione la vita proprio come in un'altra occasione in un'altra occasione Gesù preparava il terreno nel cuore di Marta e di Maria nel capitolo undici verso venticine di Giovanni quando il dubbio cominciava a prevalere che era troppo tardi perché il fratello era già morto Gesù le disse io sono la risurrezione e la vita chi crede in me anche se muore vivrà oh alleluia dove c'è il Signore c'è speranza alleluia alleluia Gesù colui che era Dio quando il discepolo gli chiese mostraci il Padre e ci basta Gesù dice Filippo da tanto tempo sono con voi io il Padre chi ha visto me ha visto il Padre perciò ogni parola che Gesù pronunciava era Dio che parlava a Dio sia la gloria era così collegato con il Padre che si manifestava per mezzo di Gesù Cristo il suo figlio venuto in altra forma in mezzo a noi e le parole di Geremia nel capitolo 31 verso 17 c'è il Signore c'è speranza c'è speranza per il tuo avvenire dice il Signore i tuoi figli ritorneranno entro le loro frontiere oh questa parola lo Spirito Santo mi sta dicendo di porgerla anche a te che hai dei figli che si sono allontanati da Cristo che hai dei figli che non vogliono sapere tu continua a pregare forse devi anche piangere o stai piangendo ma il Signore ti dice che i tuoi figli se tu perseveri con tutto il cuore il Signore Gesù vede il tuo dolore come vedeva il dolore della vedova che stava accompagnando il figlio morto tu che desideri vedere i tuoi figli spiritualmente vivi il Signore ti dà questa parola il verso 17 ascolta sorella ascolta fratello tu che hai dei figli il Signore riporta in luce questo verso e per lo Spirito Santo diventa la parola che Dio ti sta dando questa sera persevera nel tuo dispiacere e proponilo e parlane e presentalo al Signore perché Lui lo vede leggiamo il verso 17 c'è speranza per il tuo avvenire dice il Signore i tuoi figli ritorneranno entro le loro frontiere entreranno entreranno nel recinto divino entreranno nella salvezza eterna perché Gesù come vedeva il pianto di questa vedova di Nain egli ora vede il pianto tuo la tua passione di voler vedere i tuoi figli salvati non ti fermare presentali al Signore questa è una parola potente che il Signore ti ha dato conservala nel tuo cuore presentali al Signore anche con la preghiera liquida come quella della vedova di Nain Gesù non è lontano da te Gesù era entrato in quella città e si accostò a quella bara stasera Gesù entra nella porta di casa tua con la sua parola lui conosce il tuo dolore per i tuoi figli che devono essere salvati lui vede più di quando tu pensi tu continua ad essere concentrata nel presentare al Signore coloro che tu desideri che siano vivi nello spirito che possano essere risuscitati perché Gesù Cristo è la risurrezione e la vita naturale e spirituale il Signore che dice non piangere piangere perché li desideri vedere vivi ma non piangere perché il Signore li risuscita nel capitolo 7 verso 13 leggiamolo insieme questa è una parola per te che si rivolge a te personalmente perché la parola di Dio è profetica il Signore ti vede a pietà di te e ti dice non piangere continua a avere fiducia continua a fare come Yairo continua ad essere così come era Yairo leggiamo nel verso 8 verso 49 Luca 8 49 mentre gli parlava ancora venne uno dalla casa del capo della sinagoga dicendo tua figlia è morta non disturbare il Maestro aveva detto Gesù aveva detto quando la situazione era peggiorata anche i discepoli avevano pregato Gesù di intervenire sugli spiriti immondi avevano pregato toglimi quel verso i discepoli avevano pregato Gesù in molte occasioni per cacciare spiriti immondi avevano invitato Gesù a pregare per gli ammalati ma nessuno mai aveva chiesto a Gesù di risuscitare i morti ma Gesù non ha bisogno di noi che gli dobbiamo dire ogni cosa così Gesù opera dove c'è la fede è nel momento che sembrava il peggio perché Yahiro come uomo quando arrivarono i messi da casa sua dicendo tua figlia è morta lui per natura avrebbe detto allora è meglio che me ne vado perché ormai non si può fare niente più ma nel verso 50 Gesù comprese il pensiero che viveva nei servi e di Yahiro ma Gesù udito ciò rispose a Yahiro non temere sono abbi fede e sarà salva ma come è morta Gesù in parole diverse se vogliamo tradurre il pensiero che Gesù dà in questo verso dice Yahiro stai tranquillo andrà tutto bene spesso mi viene in mente quella quelle nel 2019 2020 erano stati pieni i balconi andrà tutto bene ma non l'aveva detto Gesù che andrà tutto bene lo dicevano soprattutto persone che non conoscevano il Signore perché chi conosce il Signore sa che senza il Signore non andrà tutto bene andrà tutto peggio andrà tutto bene dove c'è il Signore quando noi ci mettiamo e dipendiamo da ciò che Gesù dice allora andrà tutto bene proprio questo Gesù dice a Yahiro e questa sera lo dice a me e a te qualsiasi situazione forse hai portato al Signore tante cose come i discepoli malattie spiriti immondi difficoltà finanziarie ma non hai mai portato con tutto il cuore il pensiero di vedere i tuoi figli risuscitati ma Gesù nel verso 50 dice a chi sta piangendo per i propri figli leggiamolo Gesù dito ciò risponde a Yahiro non temere andrà tutto bene abbi fede e saranno salvati persevera nel cercare il Signore andrà tutto bene anche quando morì Lazzaro Gesù se ne uscì con delle espressioni espressioni piene di vigore quando dì che Lazzaro era malato e che stava per morire si vede che la notizia era arrivata che non era una semplice febbre come sempre in Giovanni 11 4 dice così questa malattia non è per la morte Gesù udito ciò disse questa malattia non è per la morte ma è per la gloria di Dio affinché per mezzo di essa il figlio di Dio sia glorificato molte volte le difficoltà ci avvicinano al Signore quando io le cose non vanno bene prego di più io spero che tu faccia la stessa cosa perché molti si scoraggiano e buttano tutto per aria e cominciano a dire se ci fosse Dio se ci fosse qua se ci fosse là no noi dobbiamo perseverare nel seguire perché certe cose accadono e se noi li prendiamo dal verso giusto senza scoraggiarci guardando e dipendendo dal Signore vedremo la vittoria in un modo potente non piangere persevera appressati al Signore ascolta con attenzione quello che Lui dice mantieniti nella posizione di comunione con Lui non ti allontanare perché quello che disse Gesù quello avvenne Lazzaro venne fuori dopo quattro giorni Lazzaro risuscitò fu restituito alla famiglia Gesù chiede di credere a Yahiro e Yahiro capì non temere ma accosa tutti ma anche in casa sua quando arrivarono trovavano trovò la casa piena di persone che piangevano leggiamo nel verso 52 Luca 8 52 or tutti piangevano e facevano cordoglio per lei ma egli disse non piangete perché non è morta ma dorme ma a Yahiro gli era restata impressa la parola che Gesù aveva detto Yahiro non piangeva aspettò con calma aspettò il Signore arrivato arrivato a casa lo fece entrare in casa sua tutti piangevano ma Yahiro no perché Gesù gli aveva detto nel verso 50 andrà tutto bene noi quando poniamo fede in ciò che dice Gesù le cose cambiano aveva ricevuto una parola che si era incarnata nel cuore di Yahiro anche se non aveva visto mai un morto risuscitare da Gesù nel verso 50 il Signore gli aveva detto e questa sera lo dice a te e a me Gesù udito ciò rispose a Yahiro ed è questa anche per te stasera non temere solo abbi fede e sarà salva gloria sia resa a Dio andrà tutto bene anche quando morì Lazzaro Gesù disse in Giovanni 11 14 leggiamo insieme 11 4 chiedo scusa questa malattia non è per la morte ma è per la gloria di Dio affinché per mezzo di essa il figlio di Dio sia glorificato andrà tutto bene vuol dire e così fu nel verso 44 dopo che Lazzaro era risuscitato Gesù venne grandemente glorificato leggiamo il verso 44 del capitolo 11 il morto uscì con i piedi e le mani avvolte da fasce e il viso coperto da un sudario Gesù disse loro scioglietelo e lasciatelo andare risuscitò Lazzaro e molti risuscitarono nello spirito molti credettero nel verso 45 leggiamo a Dio sia la gloria perciò molti dei giudei che erano venuti da Maria e che avevano visto ciò che gli aveva fatto credettero in lui Signore aiutaci a credere e abbiamo visto tanti che si accostavano a Gesù in modi diversi in questo modo in questa vedova senza nome ti voglio ricordare dove non c'è un nome nella Bibbia l'ho detto anche questa mattina ci puoi mettere il tuo nome sorella ci puoi mettere il tuo nome fratello signore ti dice non piangere non so in quale categoria di queste persone che abbiamo letto ti trovi tu se sei quello che grida se sei quello che vai se sei quello che aspetti se ti puoi immedesimare in Iairo se ti puoi immedesimare in colui che gridava in mezzo alla folla se ti puoi immedesimare in questo contesto c'è anche la donna che aveva il flusso di sangue che si protendeva verso Gesù per poterlo toccare non so quale sia la tua posizione questa sera ma quello che vediamo che qualsiasi posizione è anche la vedova che non si sa esprimere e che si esprime con il pianto ci sono tanti oggi che non sanno esprimere il loro dolore anche se hanno una folla intorno come la vedova che aveva una folla che lo accompagnava ma lei si esprimeva senza parole per te che ti esprime senza parole e che piangi davanti alla situazione che non vedi via di uscita e Gesù che ti dice non piangere così parla il signore trattieni la tua voce dal piangere e i tuoi occhi dal versare lacrime poiché l'opera sua sarà manifestata nella tua vita non ti allontanare da Gesù mantieni la posizione come fece Iairo che la notizia che arrivò era la pessima che poteva arrivare nel contesto delle notizie che Iairo si aspettava la notizia dei suoi sudditi fu che la figlia era morta e a casa tutti piangevano ma Gesù gli disse andrà tutto bene e tutto bene andò noi noi dobbiamo avere costanza e fede nel Signore questa sera il Signore ti vuole parlare non so in quale categoria sei ma c'è speranza anche per te che piangi senza parole Gesù ti dice proprio come dice a questa donna nel verso 13 il Signore ti vede e dà pietà di te e dice non piangere Gesù lo dice a tutti ma in modo particolare che non riesci a far comprendere il tuo dolore alla folla che ti circonda che neppure può fare qualcosa per te un credente che era restato deluso senza speranza nella vita fu ispirato e compose un bellissimo canto che è così chiamato c'è speranza al calvario per te prendiamo la parola che Gesù diede a Iairo nel capitolo 8 verso 50 dicendo con Gesù aspettare stare con lui non allontanarti da lui non temere solo abbi fede e sarà salva e così fu la bambina fu riconsegnata viva Gesù non dice solo non piangere a porta destinazione l'operazione senza che quella donna non disse neppure una parola perché non sentiva manco la forza di poter parlare leggiamo nel verso 14 del capitolo 7 e verso 15 Gesù è Dio e vuole operare nella tua vita e avvicinatosi toccò la barra portatori si fermarono ed egli disse ragazzo dico a te alzati il morto si mise a sedere e cominciò a parlare e Gesù lo restituì a sua madre mi viene in mente i miei genitori che avevano tanto pregato per me avevano pregato per avermi perché dopo essere sposati per tre anni non avevano figli si supponeva che mia mamma fosse stata sterile il Signore gli diede l'occasione di vedermi nascere però poi crescevo ma non ero convertito e così mi allontanai andavo al culto partecipavo però il mio cuore era duro ma all'età di ventitré anni come per caso il Signore attirò il mio cuore in un modo che non so spiegare all'età di ventitré anni una sera entrai come ero stato per ventitré anni tutto il tempo della mia esistenza e quella sera in quel culto il Signore passò vicino alla barra dove c'ero io dentro mi mi toccò mi salvò e mi battezzò nello Spirito Santo riversò su di me quella immensa salvezza che cambiò completamente la mia vita qui abbiamo visto Gesù che risuscitò questo ragazzo e Gesù risuscita nello Spirito e nella carne Gesù può operare nella tua vita lui non opera se noi gridiamo di più o gridiamo di meno o se piangiamo soltanto quello che abbiamo visto che quando noi ci avviciniamo o lui si avvicina a noi e noi gli permettiamo di operare e gli cambia tutto non è più detto niente di questa donna che cosa cambiò nella sua vita io penso che continuò a piangere ma non era più il pianto di prima era il pianto di commozione che saliva dal suo cuore di gratitudine verso Gesù che aveva toccato suo figlio nel salvo 55 verso 14 dice così leggiamolo la parola di Dio è ben coordinata e ci parla leggiamo no 50 14 scusami benedetto sia il Signore come sacrificio offri a Dio il ringraziamento e mantieni le promesse fatte all'altissimo il verso 15 dice così o invocami nel giorno della sventura io ti salverò e tu mi glorificherai penso che quella vedova cominciò a glorificare Dio in un modo potente perché il Signore risponde o che gridiamo o che ci accostiamo o che piangiamo soltanto non so qual è la tua posizione però Gesù sa Gesù interviene e questa sera ha messo dentro di te una parola viva di speranza confida in Lui stai vicino a Lui come fece Iairo Iairo non si allontanò da Gesù i servi lo avevano richiamato lascialo e andiamo a casa Gesù gli diede una parola nel capitolo 8 verso 50 non temere andrà tutto bene Gesù udito ciò rispose a Iairo non temere andrà tutto bene solo abbi fede e sarà salva abbiamo letto che nel verso 52 tutti piangevano ancora lì ma Lui era saldo tutti piangevano e facevano cordoglio per Lei ma Gesù disse pure a loro non piangete perché non è morta ma dorme loro si beffavano di Lui ma Gesù leggiamo il prossimo verso Gesù opera senza badare a chi sta intorno chi pensa in un modo o nell'altro e si ridevano di Lui sapendo che era morta leggiamo leggiamo il prossimo verso fino alla risurrezione ma egli prendendole prendendole la mano disse ad alta voce bambina alzati prossimo lo spirito lo spirito di lei ritornò ed ella si alzò subito Gesù comandò che le fosse dato da mangiare anche questa sera anche questa sera abbiamo visto la grandezza del Signore la sua parola è viva conservala nel tuo cuore continua a restare vicino al Signore perché è l'unico punto di riferimento dove puoi vedere le cose che cambiano a Dio sia la gloria vogliamo dire grazie al Signore per la sua parola che è stata seminata questa sera preghiamo che lo Spirito Santo la faccia fecondare e produca la fede che noi abbiamo bisogno preghiamo insieme Signore ti preghiamo che la tua parola che è scesa nel cuore della sorella del fratello nel mio cuore possa essere fecondata dallo Spirito Santo per produrre la fede necessaria che abbiamo bisogno e restare vicino a te seguire te perché con te c'è speranza presente e futura perché tu solo hai parole di vita eterna e a te Padre Dio Onnipotente nostro Dio a te Gesù nostro Signore Salvatore a te Spirito Santo diamo l'odio amore gloria gloria ora e sempre Amen hai ascoltato un messaggio registrato in diretta continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org Dio Grazie a tutti.